Buongiorno a tutti, io sono, vedo poco ma vedo, vi faccio vedere il mio motore della macchina, vi faccio vedere il motore della macchina che la volta scorsa mi sono dimenticato di farlo vedere. Bene signor, sento poco ma sento e ci scusiamo ovviamente per... Dai dai, forza. Su, allora, questa qua che cos'è? È la batteria. Bene, questo qua invece è il motore. Questo è il motore. Di che cilindro è te? Miledue, milledue. Perfetto. Qua ci vanno i... Ci va l'acqua per i tergicristalli. Per i tergicristalli, questa è l'acqua per il radiatore, questa è la batteria, questo è il filtro dell'aria. Interessante. Questa è la truccia per l'olio. Perfetto. Faccio vedere, vedi? Si vede l'olio com'è? Com'è? Va bene, vedi? Facciamo vedere bene. Ok, perfetto. Ok, è a posto, tutto a posto. Si, la sua macchina sembra a posto. Finché va, va. Altrimenti deve andare da meccanico. Ci può dire solo un'ultima cosa? Dica. Quanti chilometri ha più o meno la sua macchina? 20.000 chilometri. Allora è abbastanza nuova, non è troppo vecchia. No, c'è due anni. Bene. Se va ancora finire di pagare le cambiale. E quindi, signor, sento poco ma sento. Questo era il video e arrivederci. Arrivederci e buon divertimento. Perfetto, arrivederci. Ciao. 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 Ciao.